Qual è il tuo migliore alleato? I giorni passano, ognuno diverso dall'altro. Ogni momento è unico, porta gioia, entusiasmo, incomprensione o scoraggiamento. Da un punto di vista umano è difficile superare momenti difficili. Tuttavia, personalmente, scelgo di fissare i miei occhi su Gesù e sulla sua parola. Perché? Perché il mio Dio è fedele. È il mio Dio, il nostro Dio. Ci ha affidato un'arma formidabile, la sua gioia. Il libro di Nehemia ci dà una bella illustrazione. Leggiamo che il popolo, quando scopre la legge di Dio, comincia a piangere ed è scoraggiato. Ma il loro governatore, Nehemia, li incoraggia e li esorta a fare festa e a gioire. Nehemia 8, 9, 10. E questo è quello che la gente faceva. Quando sembrava che non potessero fare altro che piangere, andavano a casa, banchettavano e festeggiavano. Dio sa cosa fa quando ti chiede di afferrare la sua gioia e gioire di Lui. La gioia del Signore è veramente la tua forza. Nehemia 8, 10. È il vostro migliore alleato in tempi di scoraggiamento e di difficoltà. Ti invito ad unirti a questo canto di adorazione spontanea con Jen Johnson della Battle Music e a dichiarare questa verità. La gioia del Signore, la gioia del Signore è la nostra forza. Ti senti scoraggiato o sconfitto oggi? Afferra la gioia che Dio vuole darti. Egli è il tuo aiuto, la tua fortezza e il tuo amico. Questa gioia è il suo dono per te. Grazie di esistere, Eric Sellerie.